Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo di nuovo su FIFA 14, stavo per dire 14 invece no, siamo su FIFA 15 E allora vi faccio vedere subito i progressi della mia rosa, ho trovato grandissimo Courtois Non so come si vedrà il video, sinceramente è un po' schiacciato, lo vedo Però ho trovato Courtois grande, anche El Sharawi E oggi siamo qui per aprire due pacchetti, diciamo per fare uno spacchettamento, ve lo dividerò in diverso tempo Magari faccio un mix di spacchettamenti E adesso ho 10.000 credit, quindi andiamo subito ad aprire due pacchetti Eccolo qua, il primo Vediamo cosa troviamo Destro! Destro, destro, va bene Va bene Mattia destro, Mattia destro Ce ne abbiamo, andiamo ad aprire subito un altro E vediamo qua cosa troviamo No, no, niente di particolare No, non abbiamo trovato granché, sinceramente Salviamo tutto nel club, questo lo vendiamo Bene, adesso mi faccio degli altri crediti e ci troviamo per un nuovo spacchettamento Bene, altri 11.000 crediti e continuiamo il nostro spacchettamento da due pacchetti di 5.000 crediti ciascuno Vediamo cosa troviamo E... no, 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 non ci siamo granché Non ci siamo granché qualche contratto, tre contratti Ah, questi non sono malissimo Riscatta Poi Questo vendiamo, passiamo tutto al club E questi due Ah, questo Vabbè, vendiamoli per 600 crediti Bene, adesso ci prendiamo un pacchetto in questa volta Pacchetti regolari da 7.500 crediti Via E se c'è una scommessa e su cosa troveremo Speriamo qualcosa di interessante No, no, non è granché, non è granché No, nulla in particolare Vabbè, contratti, contratti, forma fisica, forma fisica Questo che roba è? Schiena, va bene Adesso una cosa volevo chiedervi Per riguardo a Courtois Courtois ho visto si vende sui 30.000-40.000 crediti Che ne dite di venderlo e farci un bello spacchettamento corposo? Fatemelo sapere Io adesso mi riprendo un'altra decina di 1.000 crediti E poi ci facciamo un altro spacchettamento per chiudere il video Quindi a tra poco Ok, altri 10.000 crediti e pronti per l'ultimo spacchettamento Andiamo ad aprire due pacchetti da 5.000 crediti Andiamo Con il primo e speriamo di trovare almeno uno in forma Dai, dai No, no, non c'è verso Uno del Barcellona Volessi fare una squadra tutta Barcellona In teoria Va bene Però, insomma, dai Non guardo, non guardo, eh Non guardo Dai, forza Fammi trovare uno in forma Ma anche uno Uno che mi serva Dai, forza Che ho trovato? Roletta Ma che? Ma dai! Cioè Io non lo so Io non ho parole No, no, non ci sono parole Comunque Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace Ah, prima di tutto Consigliatemi se devo vendere Courtois Perché posso ottenerci diversi crediti per fare un mega spacchettamento E, insomma, fatemelo sapere tramite un commento Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace Di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto Di condividere il video se volete realmente aiutarmi a farmi conoscere ad altre persone a cui potrebbero piacere i miei video Commentate appunto se volete che venda Courtois O se volete magari Qualche, diciamo, qualche pensiero sulla mia rosa E su qualche giocatore che potrei acquistare Barra cedere, insomma Fatemelo sapere Io vi do appuntamento al prossimo video E come al solito uscirà domani Non di FIFA Ma esce praticamente un video o due video al giorno Quindi andatevi a guardare Faccio diverse serie Se magari seguite solo questa Faccio una bellissima serie di Minecraft E una fantastica riguardante Clash of Clans Quindi un saluto a tutti E noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti